La Fiera dell'Antiquariato va verso il suo cinquantesimo compleanno e la Camera di Commercio di Arezzo continua ad essere al fianco della manifestazione che si ripete ogni primo weekend del mese nel centro storico di Arezzo. È stata infatti sottoscritta la nuova convenzione tra Camera di Commercio e Comune di Arezzo per la promozione appunto della fiera. La Fiera dell'Antiquariato è il gioiello della nostra città, incastonata direi nella nostra bellissima all'interno delle mura e la scommessa sarà appunto di trovare nuove metodiche di promozione della fiera perché in realtà in tutta Italia ci sono moltissimi eventi che di fatto ci stanno imitando. Quindi se ci copiano significa che è un format che funziona come lo ha dimostrato questi cinquant'anni direi di importanti successi nazionali non soltanto. La fiera ha comunque ancora oggi delle grandi rigadute sulla città, non ci possiamo assolutamente permettere di perderla quindi è fondamentale che il Comune e in questo caso la Camera di Commercio investano nella fiera ma secondo me tutta la città dovrebbe investire nella fiera invece in questo momento solo da questi due enti arrivano risorse economiche che noi investiremo anche quest'anno soprattutto su una campagna di social media andremo ad attaccare probabilmente anche un target un po' differente quindi un pochino più giovane quindi lavorando sia sui social che magari sull'incentivare anche tutta la parte di vintage di alto livello che quindi è il target ideale per questo. La fiera antiquaria richiama in città 200.000 visitatori annui confermandosi così un'eccellenza in Toscana e in Italia. Non solo turisti ma anche un indotto sulle attività economiche direttamente riferibile al centro storico dai corniciai all'incornicatori ai tappezzieri ai restauratori di mobili fino ad arrivare evidentemente a tutto quello che è il plesso di attività turistica agrituristica quantificabile in oltre 200 strutture nell'area limitrofa d'Arezzo. Quindi è un fenomeno economico straordinario non limitato all'evento stesso ma che porta ricchezza diffusa, turisti diffusi su tutto il territorio della nostra città di Arezzo.